Musica Siamo in compagnia di Katia Ciccarelli, l'organizzatrice di questa prima edizione di Creatività e Dobby al quale vogliamo chiedere come sta andando questo primo esperimento, diciamo. Allora, le aspettative sono state completamente esaudite, anzi è stato superato di gran lunga la previsione e il numero di ingressi. Questa prima edizione è stata piccolina ed è stato un esperimento per poi approntare una nuova edizione primaverile molto più grande, in un padiglione più grande e con un taglio nettamente diverso rispetto alla qualità perché alzeremo la qualità degli espositori e quindi sicuramente avremo più affluenza ancora di quest'anno. Ecco, diciamo che comunque è stata una vera e propria novità anche come argomento proposto perché comunque è una proposta in questo stile decisamente curiosa e diciamo che il pubblico ha risposto molto bene anche visto la sorta di concorrente dei mercatini comuni che troviamo in giro in questi giorni natalizi. Diciamo che i mercatini sono nettamente differenti da questa cosa che è la creatività femminile. Qui le donne e le signore, accompagnate anche dai mariti, vengono perché vogliono scambiarsi consigli, esperienze rispetto a tutto quello che è il mondo della creatività femminile. Quindi qui abbiamo degli esempi, il patchwork, il decoupage, il ricamo, la maglia, tutte quelle attività che comunque adesso stanno riprendendo piede, stanno tornando di moda alla grande. Non sono più settori legati un po' all'immaginario collettivo del vecchio ma sono oramai anche giovani, le giovani donne e le signore sono di nuovo attratti da questa che è la manualità femminile. Benissimo, quindi questo trampolino di lancio porterà sicuramente a un risultato ottimo nella seconda edizione che come abbiamo sentito sarà più grande e ancora più pubblicizzata. Benissimo, allora ringraziamo l'organizzatrice e alla prossima edizione. Grazie.